Sì! Cazzo! Non ci vanno leggeri con i prigionieri ebrei. Sta calmo, andrà bene. C'è mancato poco, stai bene? Hanno preso Tuzman. Mi spiace per il tuo amico, ma c'è un ultimo camion da eliminare. No, 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 toglitelo dalla testa! Hanno preso Tuzman! Prima la mission! Non l'ho fatto! Devo raggiungere quel camion! Beccato! Sono inizio! Questa è che è andato a sinistra! Devo continuare! Immunica pollica versi di fighter! Hanno preso ovale! Comprimente il calco! La Maker Anna! L'ontano che mettere la Abdulすごù! C'è capinole! C'è una nuova fungione! Devo raggiungere quel campo. Siamo! 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 Hai ignorato un ordine diretto. Allora mi spedisca alla corte marziale. I disertori pagano con la vita. Forse dovrei fare un favore a tutti e tagliare corto. Sergente! Hai chiuso. Non ti voglio nel mio plotone. Slevatemelo di loro! Andrà tutto bene. Ti rimetteremo nuovo. Hai fatto impossibile. Siamo! 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 Siamo cercando di lavorare, io voglio spettare. Diodi separati. Via le piastrini. Tu lietevele. Voglio non gli bravi. Chi sono i giudici? I giudici. Chi sono i giudici? Chi sono i giudici? Chi si chi è? Si chi è giudici? Un' giudici. Chi sono i giudici? F***, Dirk. Giug'le mi! Siamo americani. Punto. Siamo ne spettare. Siamo il nostro corpo! Siamo il nostro corpo! Lassate! 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 Grazie a tutti.